Un attimo solo. Grazie, buon pomeriggio a tutti. Prego, segretaria, per l'appello. Grazie, segretaria. Dichiariamo aperta la seduta di Consiglio Comunale del 15 aprile 2024. Passiamo all'ordine del giorno. Primo punto, approvazione, regolamento, funzionamento, Commissione Pari Opportunità, relazione al consigliere di Francesco. Buonasera, grazie sindaco. Oggi portiamo il regolamento che definita la Commissione per le pari opportunità. È una commissione prevista dalla legge, un organismo permanente di questa assemblea che dura in carico fino al termine della consigliatura. Lo portiamo oggi dopo aver approvato a novembre il regolamento comunale. E diciamo, un mero dettaglio, voglio darlo qui al consiglio, perché già gran parte delle norme sono state disciplinate nel precedente regolamento, però ci tenevamo qui a offrire un spettro più ampio di questo organismo, quindi del lavoro che svolgerà sul territorio, la costituzione, oltre la durata, e sentivo prima, infatti, anche interfacciarsi i consiglieri di minoranza, anche sulla presenza o meno del gettone di presenza e dei rimborsi. Poi ne parleremo accuratamente. Questo organismo svolgerà diverse funzioni all'interno del nostro comune e oltre, quindi come vedete bene nell'articolo 4, si presuppone di andare a controllare e a competenza anche in relazione a documenti prodotti dal Consiglio e dall'Aggiunta Comunale. Avrà l'obiettivo di organizzare eventi, convegni all'interno del nostro comune e cosa alla quale tengo tantissimo, prevederà sicuramente il coinvolgimento della nostra istituzione scolastica, perché l'obiettivo è quello di andare a fare indagini sulle condizioni femminili del nostro territorio, a partire a livello sicuramente lavorativo, ma già iniziando a sensibilizzare i ragazzi. Lo abbiamo già fatto negli anni precedenti, con delle ricorrenze nazionali, come quella del 25 novembre. L'obiettivo è proprio quello di andare a eliminare gli stereotipi di discriminazione sessista. La composizione della commissione. La commissione è composta prevalentemente da donne, quindi membri del Consiglio Comunale, a livello numerico da 3 a 5, saranno membri interni che hanno diritto di voto e ci si potrà avvalere della possibilità di andare a nominare anche i membri esterni, quindi parliamo di professionisti, persone... Salve, Luca, ben arrivato. Professionalità esterne. Aspettami. Stiamo parlando del primo punto della commissione delle varie opportunità. Ok, possiamo procedere? Salve, va benissimo. Quindi parlavo della costituzione, della composizione di questo ordano, quindi abbiamo detto che potrà variare da 3 a 5 membri eletti all'interno del Consiglio Comunale. Deve essere prevalentemente costituito quindi da donne e le stesse donne poi voteranno e nomineranno il presidente. Per quanto riguarda invece i membri esterni, una volta che sarà istituita la commissione, verranno selezionati anche in base a quelli che sono il documento programmatico della commissione, che dovrà elaborare un documento pluriannale delle attività che svolgerà sul comune. E' chiaro che tutti coloro che parteciperanno, noi qui abbiamo dovuto inserire il concetto del gettone di pretenza che è pari a quello dei consiglieri che partecipano al Consiglio. E poi si può chiaramente scegliere di non usufruirne nel caso. Ed è previsto però un rimborso spese che deve essere chiaramente documentato in ragione dell'esercizio della propria funzione all'interno della commissione. Io qui, segretaria, se posso, vorrei subito fare un emendamento. Vorrei emendare per soppressione all'articolo 14,2, l'ultimo paragrafo in cui si parla del rimborso. Il rimborso non può essere in ogni caso superiore all'importo del gettone di presenza stabilito per i membri effettivi dell'organismo, perché mi sembra una spesa un po' non congrua. Quindi, se è possibile, eliminerei questa frase. Va bene? Possiamo farlo? Sì. Dopo lo votiamo, certo. Ok. La motivazione, dicevo, perché il gettone di presenza è pari a quello dei consiglieri che partecipano, quindi pari circa 16 euro. E ci sembra comunque una spesa non congrua rispetto al fatto che deve essere minima. Sì, perché si parla di... Ma abbiamo messo un rimborso di spese documentate in ragione dell'esercizio della propria funzione. Quindi, se mai ci dovessimo avvalere di una figura professionale e quindi di doverla rimborsare, soltanto per le spese di viaggio che viene da Roma, 16 euro, capite bene che è una spesa che non è congrua rispetto anche ad un viaggio minimo. Anche per l'Avino ormai non è più una spesa congrua. Quindi questa frase abbiamo pensato di eliminarla, perché preferiamo parlare di rimborso di spese documentate, chiaramente. e inoltre... Sì, sì. Il rimborso, l'ultima frase, segretaria, se è l'irregolamento può vederlo, in articolo 14. Il rimborso non può essere in ogni caso superiore all'importo del gettone di presenza stabilito per i membri effettivi dell'organismo. Ok. Allora, come abbiamo detto, ha durata dell'intera consigliatura. È chiaro, ho fatto eccezione, non so, possibili dimissioni o decadenze, perché a quel punto il membro che va, che parte a non far più parte della commissione, deve essere designato nuovamente con le stesse modalità iniziali. Io direi che tutto quello che riguarda, infatti abbiamo pensato bene insomma con la segretaria, la costituzione della commissione, di lasciare il tutto il giorno in cui si andrà ad insediare il consiglio e far sì che la commissione si istituisca, così come le altre commissioni presenti all'interno della consigliatura, come la commissione elettorale e le altre. Io non so se avete delle domande in particolare, altrimenti potrei parlarvi di tutto quello che la commissione potrebbe fare sul territorio. Se invece avete delle richieste specifiche, delle accortezze, non è stato condiviso perché la gran parte è già citato nel regolamento portato e approvato precedentemente, gli articoli sedi di 17, 21, 25 e 31. Quindi sì, è tutto lì praticamente. Noi l'abbiamo portato a parte, ma in realtà ci siamo attenuti al regolamento comunale che lo stesso consiglio ha votato. Sì, permanenti, esatto. Siccome insomma è stato votato da tutti il 7 marzo del 2024, ci è sembrato ridondante. Però se avete anche voi delle richieste, possiamo ragionare. Sì, consigliere di Francesco, qualche altro intervento? Prego, consigliere di Stefano. Sì, grazie sindaco. Allora, per quanto riguarda la questione del regolamento di pari opportunità, è vero che è indicata la presenza di questa possibilità di istituire questa commissione sul regolamento del Consiglio Comunale. Però rimarchiamo ancora una volta il fatto che la minoranza in questo Consiglio Comunale non viene coinvolta nelle scelte in cui magari è opportuno farlo. Abbiamo fatto varie proposte e mai accolte. L'ultimo è veramente paradossale, quella del senso unico a Castelnuovo. Richiesta, condivisione da parte della maggioranza, ordinanza per fare in maniera sperimentale il senso unico, poi ne parlerà magari Alessia più nel dettaglio. Ad oggi ancora non c'è traccia. Abbiamo fatto varie proposte e mai accolte. Abbiamo condiviso con voi lo statuto e l'abbiamo approvato, votandolo anche noi della minoranza. Abbiamo condiviso con voi il regolamento del Consiglio Comunale, approvandolo insieme alla maggioranza. Adesso arriva questo regolamento, che ben venga, ci mancherebbe altro giusto che si provveda a istituire il regolamento della Commissione Pari Opportunità, che preveda anche di valutare le azioni di mobbing all'interno del Comune. Forse ce n'è anche necessità in alcuni casi. Però era opportuna una condivisione da parte nostra. Quindi, quantomeno, una telefonata, vi mandiamo una bozza di regolamento, dateci un'occhiata se lo condividete. Perché poi, per esempio, abbiamo rilevato stamattina che mentre sulla proposta di delibera c'era scritto che non dava motivo di nuove spese questo regolamento, in effetti, essendoci un gettone di presenze, anche dei rimborsi che vengono riconosciuti a chi partecipa alla Commissione, questa cosa non era vera, al punto che adesso avete rimandato qualche minuto fa una nuova proposta di delibera con la correzione e con la firma anche da parte del responsabile del settore economico-finanziale. Quindi, insomma, è mancata questa condivisione che in passato, nei tempi più recenti, c'è stata e ha portato i suoi frutti attraverso l'approvazione di due strumenti fondamentali, come il regolamento del Consiglio Comunale e prima ancora dello Statuto Comunale che era vecchio di molti anni, di oltre vent'anni. Quindi, in questo caso, non è avvenuta questa cosa. Poi, se vogliamo andare nel dettaglio, adesso, al di là della modifica che è stata presentata, dell'elementamento che è stata presentata adesso dall'assessore al ramo, quindi probabilmente poteva vederselo anche prima questo aspetto, notiamo che ci sono alcune incongruenze. Per esempio, quando a un certo punto qui si dice sul regolamento della Commissione Pari Opportunità che è costituita prevalentemente da donne e a un certo punto si legge anche, lo ritrovo che ce l'ho sottolineato, un attimo solo che lo prendo, può essere anche costituita esclusivamente da donne. Però il regolamento del Consiglio questa cosa non la prevede, segretario, prevede esclusivamente la maggioranza. A noi benvenga, può essere completamente di donne. Mi faccio finire cortesemente. Quindi benvenga il fatto che un organismo di questo tipo sia costituito prevalentemente da donne, perché sappiamo che tanto uno sbilanciamento nella rappresentanza in Consiglio Comunale è a favore degli uomini. Anzi, io auspico per il futuro che ci siano maggiori presenze femminili in questo consesso, in questo Consiglio. Però noi abbiamo approvato un regolamento del Consiglio che sopra il regolamento di pari opportunità che prevede che può essere costituito da membri per la maggioranza donne. Adesso invece sul regolamento del pari opportunità c'è scritto questo, ma c'è scritto anche che può essere composto esclusivamente da donne. Questo confligge in parte con quello che abbiamo scritto sul regolamento del Consiglio Comunale. Però poi completo l'intervento. Se vuoi intervenire nel frattempo, poi completo l'intervento. Grazie. No, volevo dire soltanto questo, volevo dire soltanto questo, che non si tratta di un'incongruenza. Volutamente, io ho pensato che il regolamento del Consiglio prevede una prevalenza di donne, ma che il regolamento per la Commissione pari opportunità può andare anche oltre senza essere per questo in conflitto. Soltanto questo. Se va oltre va bene. Se va oltre va bene non lo so, perché si parla di maggioranza, quindi altrimenti avrebbe detto lo stesso regolamento del Consiglio della maggioranza o anche esclusivamente. Grazie. Per noi questa è l'incongruenza e rimane il fatto che mentre abbiamo condiviso, dicevo prima, alcuni percorsi e sono poi giunti a una condivisione delle scelte fatte e la votazione da parte nostra di quei documenti con esito favorevole, in passato col Sindaco, lo sa bene, abbiamo collaborato quando ero io in amministrazione con la commissione toponomastica è stato un lavoro proficuo dove maggioranza e minoranza hanno lavorato fianco a fianco per fare in modo che alla fine ci fosse dopo tanti anni una nuova toponomastica nel Comune di Campi con l'intitolazione delle vie, con la numerazione dei civici. Adesso l'amministrazione comunale a distanza di molti anni finalmente è riuscita anche a installare le insegne stradali. Con un finanziamento preso, tra l'altro, non a carico dell'amministrazione. Con qualsiasi fondi sono stati ottenuti, quando sono fondi recuperati meglio. Ben vengano qualsiasi soluzione. L'importante è che sia anche non eccessivamente tardiva. Lo stiamo vedendo. Siete in ritardo su tutto. Non state facendo nulla che possa essere definito un'opera pubblica conclusa. Non ce n'è una. L'ultima è il polo scolastico. Veramente paradossale. È stato fatto un post dove si dice polo scolastico, molti milioni di euro. Poi siamo andati a vedere il bando. Il bando riguarda la costruzione della scuola media e della palestra. Il polo scolastico, se usiamo l'italiano, è un edificio, un complesso di edifici dove sono concentrate le scuole. Se voi fate la scuola media, quello non è il polo scolastico. La scuola media è la sua palestra. Punto. Perché? Per quanto riguarda il finanziamento elementare, siamo ancora... D'Alfonso che se ne sta occupando. Del finanziamento scolastico elementare c'è D'Alfonso che se ne sta occupando. Adesso di chi se stai sempre volendo. Poi lo convolgeremo. Nei prossimi giorni convolgeremo anche D'Alfonso. E so che si sta impegnando tanto a Roma. Ma io lo so questo. Eh, lo so io. Sono accuse che rivolge e ne risponderà a D'Alfonso. Se lo dico in pubblica piazza senza problemi. Perfetto. Non sono accuse. Sta dicendo pubblicamente che l'onorevole... Non sono accuse. Non tocchi questo tasto che è dolente. No, vabbè. È una pagina brutta della politica campionale. Lei è sicuro di questo? Ne risponderà anche. Sono sicuro. Se lo dico in consiglio comunale lo dico con grande sicurezza. Lei sta dicendo che l'onorevole D'Alfonso si sta operando dei terreni del polo scolastico di Campania per grande interesse. Quindi per rallentare l'organizzazione delle opere. Questo lo dice lei. No, lo sto chiedendo. Questo lo dice lei. È una domanda. Questo lo dice lei. Io dico che si sta interessando. Questa è una domanda. Mi sono fermato qui, caro consigliere Stefano. in senso positivo o negativo? Lo so. C'è un interesse. Quindi non sa... No, lo scopriremo. Probabilmente è positivo allora se non sa se è negativo o positivo. Un interesse di un onorevole. In senso negativo C'è un interesse di un onorevole per il polo scolastico di Campania. Qualcuno gliel'avrà chiesto credo di interessarsi a questo polo scolastico. Non guardi me perché... No, no, io guardo lei. Non guardo lei, guardo. Il capogruppo di questo gruppo consigliare. Non si deve pensare perché io non ho rivolto a nessuna domanda a una domanda di Alfonso e di questo non la risponderà a lui. Qualcuno l'ha coinvolto. Io lavoro soltanto per il bene di Campli. È lei che non deve dire che c'è un polo scolastico in realizzazione. Hai visto il teatrino di questi giorni, caro consigliere Stefano. Ma io guardo quello che succede. Ma saranno i Camplesi aggiungati. Ma di che cosa? Di quello che sta succedendo a tutti questi giorni. Che sta succedendo? Lo sanno tutti. Io non lo so. Eh no, poi lo scoprirò. In mente si avvicina il momento elettorale e ci sono delle... Ognuno fa quello che vuole. Senza regole, senza controllo. No, no, no. Senza nulla. Questo lo dice lei, sindaco. Tutto viene fatto in base a regole, controlli e le procedure politiche previste in questi casi. Nel rispetto di questo. Comunque stavo dicendo che lei ha detto che viene realizzato un po' lo scolastico. Ha pubblicato le foto perché altro purtroppo non può fare perché c'è ancora un terreno incolto in questo momento e poi salta fuori che il bando riguarda esclusivamente la scuola media e la sua palestra. Punto. Per quanto riguarda la scuola elementare siamo ancora nella fase della progettazione. No, no, ma la fase è di Roma. Del suo caro onorevole D'Alfonso. Ma per me è di quello di quello. Venga con me a Roma. Lunedì sono a Roma. Eh vabbè, la faccio. Faccio compagnia. Cos'interessa il cuore di Campli? L'ha invito ufficialmente in Consiglio Comunale a venire con me a Roma. Non c'è problema. Sì, quando vuole. Abbiamo offerto collaborazione dall'inizio è sempre stata rifiutata. E come martedì sono con te. E quindi quando vuole andiamo a Roma. Io sono d'accordo. La mattina può venire con me al Ministero. L'ha invito ufficialmente in Consiglio Comunale. Se si tratta di andare a fare non beghe politiche azioni che si costituiscono beghe politiche ma semplicemente di fare azioni che siano favorevoli al bene di Campli io sono sempre andiamo per quello. Io l'ho offerto cinque anni questa collaborazione l'ha sempre rifiutata nei fatti. Sarà un onore invitarla a martedì a Roma. Se ne ricorda adesso la nostra collaborazione quando l'ha rifiutata per anni. No, no, io non ho mai rifiutato. L'ho fatto l'esempio del senso unico a Castelnuovo dopo un anno e mezzo. Ha votato mille provvedimenti in questi cinque anni con questa amministrazione. Vogliamo contare quanti provvedimenti ha condiviso e ha votato a favore? Andiamo a vedere i suoi. Andiamo a vedere i suoi quando ha fatto opposizione. Molti di meno. Quando vuole. Molti di meno. Quando vuole. Perché erano sbagliate le scelte. Allora invito la segretaria invito la segretaria a estrarre copie di tutte le delibere consigliari nel periodo 2009-2014 e 2019-2024. E vediamo quante volte io ho votato a favore in questi ultimi cinque anni e quante volte ho votato a favore il consigliere Agostinelli in quel periodo. facevate atti che non avevano senso per la città di Campo. Ma questo lo dice lei, Sindaco. No, l'ha detto i camplesi con l'elezione del 2004 Sinona Gostinelli. L'ha detto il popolo nel 2004. Questo lo dice lei. Lo dico io, sì. Ne lo dico io. Sono da. Quelle delibere c'è la firma del segretario comunale e degli uffici e quindi come fa a dire che hanno sbagliati ma sta accusando gli uffici e i segretari dell'epoca che siano atoperati. Da un punto di vista amministrativo da un punto di vista politico. Ma lo dice lei. Stavate rovinando una città. Ma questo lo dice lei. La città l'ha state rovinando in questi ultimi cinque anni che avete lasciato una città dove c'è lo spopolamento. C'è un mortore assoluto non ci sono iniziative. Ma questo lo dico io. Ma è un mio giusto. Ma il mortore lo vede lei. Lo posso dire. Io riciclavo per Campo e hai visto il mortore. Lo posso dire. Io ho visto tutta la cena di Campo. Ma sì, ma ci mancherebbe. Ci mancherebbe. Ci sono delle iniziative spot su cui l'amministrazione si fa grande propaganda ma di fatto se io il sabato pomeriggio sabato sera o domenica pomeriggio non la mattina perché c'è il mercato giro per Campi e non trovo nessuno. Perché se gira in altri comuni che cosa trovi? Ma trovo sicuramente delle situazioni iniziative di queste. E questo è un mio pregiudizio. Lei può non condividerlo però poi i cittadini lo vedono quello che succede in centro a Campi. Attenzione che questa tendenza sta arrivando anche a Santonopoli che è la zona più vivace più produttiva di Campi. Che non c'è attenzione. No, non ho detto questo. Lei vive un altro comune. Mi rendo conto che lei ormai è un altro comune che questa difficoltà che questa difficoltà sta riguardando piano piano l'intero territorio comunale. Io capisco che lei è la mia frazione e vede quante persone ci hanno più trattato. Io la vedo molto confusa in questi giorni. No, no, io sono molto ben lucido. La vedo molto confusa. Io sono molto lucida. E la vedo molto confusa invece. Io la sono molto lucida. Dalla scelta del candidato sindaco ad altre scelte. Ma lei deve sembrare la vedo molto confusa. La vedo molto confusa. Non so, con lei. Non va più personale. Ma io invece non la vedo confusa. Va in giro a dire che si candida a Sina poi torna indietro. Non si sa più che cosa va a fare. Ma nel caso mio si candida quindi a Sina si candida se mi fa parlare se mi fa sapere quanto è aggressivo la commissione pari opportunità visto che deve risolvere i casi di mobbing il comune speriamo che venga istituito al più presto questo è il modo di fare di questo sindaco. No, no, no. Il modo di fare questa è la verità. E' molto democratico. Nel mio gruppo mi dispiace che vuole far passare questo è molto democato. A proposito di modo democratico ci si riunisce si discute e si sceglie. Nel caso suo si è candidato a sindaco rinnovando la sua candidatura senza che ci sia una condivisione almeno per quello che mi risulta è ampia. Ma io te lo dico io. Ma come si permette a dire l'administrazione? Ma lei come si permette a dire a me che prima mi candida e poi non è vero? Come si permette a dire che io ho fatto che mi sa le candidate e poi no? Come si permette ma sempre sul personale se la rende conto o no? Sì, sì, vice sindaco se smette di andare sul personale. Io volevo soltanto aggiungere che per quanto riguarda San Donopio mi sto impegnando perché parecchia gente si rivolge a me e dica guarda qui c'è un parecchio molto casino vedi un po' vedi un po' di fare riferimento così il consiglio perché non si dorme più la notte è un continuo baccano musica a destra musica a destra quindi quello che dici tu caro Maurizio non è vero è un paese molto vivo anche troppo io vi sto dicendo che la parte più viva più produttiva del comune di Cambri che è quella di Santonofrio e zona limitrofe comincia già a dare i primi segnali quindi cerchiamo di coglierli per tempo quando ancora quando ancora la situazione è viva perché quella zona del territorio merita di essere preservata come la zona più viva più produttiva e più che dà maggiore risalto a quello che è tutto il territorio comunale per quanto riguarda il resto tornando sul discorso polo scolastico poi il sindaco ha spostato l'attenzione come è capace di fare lui noi diciamo che avete propagandato la realizzazione di un polo scolastico dove attualmente c'è soltanto un bando fra l'altro la procedura aperta al minor prezzo benvenga per quanto riguarda il risparmio ma l'abbiamo visto col campo sportivo dei frati dei cappuccini cosa succede? che succede? un lavoro che deve essere finito a ottobre posso finire l'intervento sindaco poi interviene abbiamo approvato un regolamento dove io vorrei avere 20 minuti per esporre il mio pensiero e poi le repliche e continua a interrompere invece l'ha approvato questo regolamento lo condividono sì ma sì allora mi fa parlare o no e allora mi doveva interrompere l'ultimo consiglio non mi doveva interrompere in continuazione spostando l'argomento spostando l'argomento dove vuole lei va bene no è la verità segretario sono le condizioni se no io azzio me ne vado per cosa? parli che le sta togliendo la parola parli tu è intervenuto almeno 10 volte quando ho la parola io almeno 10 volte sindaco per cortesia abbia rispetto degli altri e soprattutto del regolamento che ha approvato altrimenti non lo deve portare non è attuativo? benissimo allora è carta a straccio benissimo apposta il mio intervento si conclude qui complimenti anche al consigliere Adriani un altro bel esempio di democrazia un attimo perché non si calma stiamo parlando di regolamenti di pari opportunità sembrava che era una pre campagna elettorale stiamo facendo un regolamento serio importante per questo comune regolamento di pari opportunità almeno la prossima volta il consigliere consigliere al ramo dovrebbe avere l'assessore al ramo dovrebbe avere almeno l'accortezza di fare un colpo di telefono ma un regolamento di pari opportunità l'accortezza l'è sufficiente? ah perfetto allora è apposto così complimenti anche a lei la ritenevo diversa ma io non lo so ma oggi con tutti attacca tu se continuo a dire che questo regolamento non deve essere approvato perché non vi ho coinvolto quando in realtà la maggior parte se non quasi tutti i dettagli sono stati riportati in maniera peculiare nello statuto e nel regolamento che abbiamo approvato insieme questo è stato un mese fa un vero dettaglio portarlo perché è tutto riportato e se volete vi dico anche gli articoli dove è presente articolo 16, 17, 21, 25 e 31 del regolamento comunale è nello statuto è presente all'articolo 26 abbiamo soltanto cercato di dare in maniera organica di ridistribuire tutte le informazioni quindi non ho preso decisioni in autonomia sono state fatte su un regolamento che abbiamo approvato insieme quindi accusarmi di cosa di un organismo che è da lustro al nostro comune perché sono pochi i comuni che lo hanno ed è previsto da legge quindi è un comune che sta cercando di adottare tutti gli strumenti necessari per amministrare bene adesso mi devo sentire dire che non ho fatto bene il mio lavoro questa cosa mi spedisce se poi lei non lo vuole votare perché ha altre problematiche sue è un problema però che deve ridare la responsabilità su di me non ci sto questo se vuole fare un emendamento sono ben lieta di ascoltarlo e nel caso verrà approvato ma non dire votatevelo voi certo che lo voto perché io ci credo in questo posso replicare prego consigliere di steve grazie sindaco allora caro assessore di francesco io come sa apprezzo anche il lavoro che lei ha svolto in questo ambito dedicato e complicato e sensibile soprattutto io ho detto che da parte sua non ho detto che lei ha sbagliato in qualcosa in particolare ho detto che sarebbe stata opportuna un'accortezza l'ho chiamata così se vuole questo termine garbato non le piace non so che far che farne allora le ho detto che sarebbe stata opportuna un'accortezza quantomeno di fare una telefonata e dire vi trasmetto una bozza del regolamento guardatevelo se c'è qualche indicazione ce l'ha data altrimenti la proviamo così com'è questa cosa non è avvenuta poi le dice che c'è uno sforzo importante per approvare tutti gli strumenti necessari ma le ricordo che il regolamento del consiglio comunale era stato promesso in occasione del primo consiglio comunale tenutosi sotto i portici del comune di Campli sono passati cinque anni e soltanto questa consigliatura rimane a un mese della presentazione delle liste anche meno finalmente lei sta portando il regolamento delle pari opportunità che avrebbe potuto portare qualche anno prima applicando già la commissione che ancora non c'è sto finendo sto finendo certamente ma infatti stiamo parlando di questa adesso quindi cinque anni fa avete promesso un regolamento del consiglio a seguito del quale si poteva fare il regolamento non facendo tutto il primo noi portiamo un programma elettorale che dura cinque anni perfetto vi state ricordando a un mese dalla presentazione anche per vi state ricordando di portare un regolamento senza neanche aver coinvolto la minoranza questa è la realtà di fatti poi potete descriverla come vi pare però oggi è un regolamento che prevede un gettone non prevede un gettone prevede un limite al gettone queste cose potremmo vedere insieme invece ve le siete visti e rivisti anche sbagliando perché adesso vi trovate a fare un emendamento durante il consiglio avete dovuto modificare la delibera perché non era prevista la firma del responsabile economico finanziario e invece era necessaria e io stamattina mi sono preoccupato di chiamare la segretaria e il dottor Galeotti segnalando questa incongruenza fatto sta che avete cambiato la delibera perché c'era un errore quindi non avete ritenuto di condividere questo lavoro con gli effetti che sono chiari con le modifiche dovute a portare in corso d'opera e quindi questo è il risultato queste sono le motivazioni per cui per quale lei potrebbe io si sta sbagliando noi noi apprezziamo la parte dell'opposizione le critiche c'è anche qualche proposta noi apprezziamo noi apprezziamo moltissimo apprezziamo moltissimo il regolamento per quanto ci riguarda è un regolamento che per fortuna c'è perché come ho detto all'inizio di solito i consigli comunali a campi sono sbilanciati a favore degli uomini e la rappresentanza femminile è purtroppo il minimo previsto dalla norma quindi il fatto che ci sia un regolamento che favorisca la presenza femminile in negli ambiti compreso il consiglio in vari ambiti compreso il consiglio comunale benvenga per questo motivo non voteremo contro ma ci asteniamo per come si è proceduto per portare questo documento all'approvazione del consiglio ok prego consigliere Giovanni allora grazie no io volevo ringraziare perché è stato inserito questo questa possibilità delle pari opportunità è comunque una possibilità che avviene di fatto dalla costituzione quindi non ci inventiamo nulla di nuovo però ecco che sia fatta è una cosa importantissima quindi essendo anche l'unica donna che fa parte della minoranza ringrazio di tutto questo ci tenevo solo semplicemente a sottolineare perché poi i discorsi sono scesi su altro probabilmente fomentando poi situazioni inutili che alla base c'era proprio visto perché è una pari opportunità che casomai nei miei confronti essendo l'unica donna presente qui in minoranza semplicemente un piccolo contatto anche se l'ho già visionato e avevo visto gli articoli che comunque sono abbastanza corrispondenti tra l'uno e l'altro avrei preferito che nei miei confronti ci fosse stato proprio perché adesso in questo momento voi state promuovendo le pari opportunità tutto qui era questo il discorso che volevamo fare senza scendere poi sul resto non è che stiamo promuovendo le pari opportunità perché è da dieci anni che promuovo eventi di pari opportunità in questo in questo caso proponiamo un organismo che è diverso già regolamentato e approvato precedentemente quindi mi sembrava ridondante guardi guardi assessore posso fare una domanda assessore visto che si è irritata le posso fare una domanda la domanda è semplice la domanda è semplice c'è un problema internazionale lo prevedeva ma non è stato mai fatto però le posso fare una domanda in questi cinque anni quante volte ha chiesto alla consigliera di Giovanni di condividere qualche aspetto legato alle pari opportunità femminile quante volte in questi cinque anni ha invitato sempre l'iniziativa no 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 non parlo di inviti formali istituzionali c'è un po' di coinvolgimento forse vi sbagliate non c'è un organismo non c'è mai stato un organismo una commissione deputato a ciò appunto quello che ho fatto ho fatto sempre non sono in ritardo sono in ritardo io perché il ritardo c'è stato negli anni forse in vent'anni perché la Costituzione parlava di questo da quando è stata promulgata quindi non state dicendo io forse ho il merito ad oggi di averla inserita all'interno del nostro consiglio sicuramente non ho il demerito di non averla messa forse come amministrazione precedenti ma ad oggi sicuramente la commissione tutte le ma infatti io mi prendo le responsabilità che non sono state fatte prima e l'ho voluto fare adesso e quindi ci ho lavorato abbiamo lavorato perché non si poteva portare senza sono nove anni tanti comuni ancora non ce l'hanno tanti comuni ancora non ce l'hanno anzi quasi tutti non ce l'hanno pochi ce l'hanno che fa l'assessore comunale e a distanza di nove anni e a distanza di nove anni porta l'approvazione questo regolamento sono dieci anni che da quando mi sono insegnata io non è lungo scusate quando sono perché io non sono non è mia abitudine però poi mi irrito perché allora se vogliamo dirla tutta è da dieci anni che quando mi sono inserita non c'era il sociale non c'erano neanche le varie opportunità perché quando sono arrivati il sociale non aveva nulla l'ufficio non faceva nulla e quelli che c'erano non voglio fare nomi e cognomi avevano la presopopea la prepotenza di fare gli psichiatri i sociologi gli psicologi decidere se un utente poteva o meno soffrire di un servizio io ho dovuto ricreare il sociale da zero quindi se forse ho messo qualcosa da parte nel tempo è perché ho costruito tantissimo se oggi abbiamo un mezzo che sposta venti utenti è perché io ci ho lavorato non è semplice non è facile avere un mezzo che trasporta venti utenti in un comune perché quando sono arrivata dieci anni fa non c'era nel mezzo e negli utenti che usufruivano di quel servizio quindi cerco mi ripenisco al fatto che io ho lavorato per le mie deleghe quindi se oggi arrivo a fare una commissione delle pari opportunità perché ho lavorato anche in questo settore forse negli anni dietro non era stato fatto nulla questo è la sua giudizio che dovrebbe che dovrebbe che dovrebbe confutare a chi si occupa posso finire io l'ho ascoltata io l'ho ascoltata l'ho ascoltata dovrebbe confutare questa situazione a chi prima di lei ha gestito come consigliere o assessori precedenti il servizio sociale a chi ha operato agli operatori immagino immagino dei professionisti che quindi si muovevano secondo scienza e coscienza credo lei sta dicendo che non avevano fatto niente quindi gli operatori che si muovono in autonomia perché ho opportunamente degli uffici che e quindi erano dei pazzi che seguivano le indicazioni del politico di turno contro e quindi non erano capaci di svolgere il servizio sociale non erano capaci i professionisti che stavano nell'ufficio del sociale non erano in grado non nell'ufficio no non mi dico perché io con il mio ufficio collaboro benissimo e se io oggi sono arrivata a fare questo è perché ho avuto quindi solo grazie a lei no grazie al lavoro degli uffici e alla mia collaborazione con gli uffici perché senza gli uffici noi politici non possiamo fare nulla e questo lo richiedo tutti i giorni quindi tutti i giorni ringrazio chi mi sta accanto grazie non pensavo di suscitare tutte queste molenche in questo punto che doveva essere abbastanza più tranquillo però se non ci sono altri interventi io passerei al voto dell'emendamento prima proposto dal consigliere di Francesco favorevoli articolo 14 articolo 14 comma 2 l'ultima fase il rimborso non può essere in ogni caso superiore all'importo dell'illustione di presenza stabilito per i denti soppressivo l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 14 segretario tolta questa voce senza sostituirle con nessun'altra mi faccia finire per favore tolta questa voce in cui si dice il rimborso non può essere in ogni caso superiore all'importo del gettone di presenza stabilito per i membri effettivi dell'organismo non c'è nessun limite perché non viene indicato un limite e quindi il rimborso delle spese sono quelle documentate quindi a pie lista quello che viene indicato eh vabbè certo quindi rimborso spese benzina albergo ristorante quali sono queste Stefano eh questa l'amministrazione che ci sarà farà i rimborzi senza limite chiamerà le figure che avranno un compito per il territorio non ha voglia di chiamare le figure per fare una vacanza a campo se no perché se pensa a questo ha sbagliato l'amministrazione io non ho parlato di questo si sta sbagliando io l'ho fatta una domanda semplice quindi i rimborsi avvengono a pie lista domanda è semplice il primo periodo del comma 2 però dice questo che questo rimborso deve essere compatibile sia con la normativa in materia contabile e sia compatibile con le disponibilità di risorse previste quindi ci deve essere il rispetto della normativa e la copertura finanziaria quindi assolutamente bene grazie passiamo al voto favorevoli all'emendamento dell'articolo 14 articolo 14 comma 2 ultimo periodo eliminazione di quest'ultimo periodo favorevoli assenuti tra adesso la votazione sul punto quindi all'ordine del giorno che l'approvazione del regolamento per il funzionamento della commissione pari opportunità favorevoli astenuti 3 astenuti di Giovanni e Cordoni l'immediata esecutività dell'atto favorevoli maggioranza astenuti 3 bene chiuso il primo punto all'ordine del giorno passiamo al secondo ed ultimo punto all'ordine del giorno di questo consiglio comunale che è la validazione del PEF approvazione tariffetare anno 2024 come sapete questo punto lo abbiamo riproposto oggi a seguito del cambiamento normativo che ha previsto che la validazione del PEF fosse a carico dell'Agir che è il nuovo ente istituito che andrà a gestire per i prossimi anni i rifiuti non solo al Comune di Campli ma per tutti i comuni della regione Abruzzo il PEF del Comune di Campli è stato regolarmente validato oggi portiamo l'approvazione delle tariffe tariffe che per l'anno 2024 saranno più basse anche se leggermente più basse per i cittadini del Comune di Campli questo grazie ad un lavoro congiunto anche degli uffici comunali che hanno recuperato nuove posizioni che non erano comunque conosciute ai tributi del Comune di Campli e quindi riusciamo per tutti i cittadini del Comune di Campli a non solo mantenere le tariffe dell'anno precedente ma anche leggermente ad abbassarle quindi diciamo che insomma in un periodo dove aumenta tutto siamo riusciti come amministrazione comunale grazie ripeto al lavoro anche degli uffici a mantenere le tariffe leggermente più basse abbiamo introdotto una serie di misure che vanno anche a tutelare delle fasce più deboli credo sia questo necessario nel 2024 appunto perché questa amministrazione vuole e tende a tutelare le fasce più deboli credo che questo lavoro proprio insomma fatto congiuntamente sia un altro risultato dei cinque anni in cui questa amministrazione è riuscita costantemente comunque a non aumentare le tariffe non solo dei latari ma anche di tutti gli altri servizi a domande individuali facendo di questo comune il fiore all'occhiello per quanto riguarda l'offerta appunto sociale che è stata davvero notevole in questi anni ed è una cosa riconosciuta in tutta la provincia di Teramo e non solo quindi ringrazio il consigliere di Francesco per il lavoro appunto su questo settore e tutta tutta naturalmente tutto il consiglio comunale perché sempre all'unanimità abbiamo condiviso queste scelte se c'è qualcuno che vuole intervenire prego consigliere Di Stefano allora cercando di tenere i toni bassi io mi riferisco a questo per quanto riguarda il piano che andiamo ad approvare qui sono intervenute delle situazioni che teoricamente devono portare a un risparmio inconsistente perché nell'ultimo bando di gara come è stato indicato sugli articoli di stampa e l'abbiamo visto anche dalla documentazione in possesso del comune si parla di un risparmio di circa 100.000 euro all'anno esatto che però di cui non vediamo ancora i benefici ah no non lo puoi vedere ovviamente sto dicendo sindaco se mi fa finire pezzo dell'anno prossimo spero che avrà la fortuna di vederlo troverà qualche cambiamento il sindaco non riesce proprio a trattenersi per intervenire per forza quando sto parlando io continua a mantenere la calma e dicendo che effettivamente questo risparmio che è stato pubblicizzato sugli organi di stampa dicendo abbiamo rinnovato rifatto il bando di gara c'è stato un risparmio importante che consiste in circa 100.000 euro all'anno più o meno circa più o meno va bene allora cosa dire a riguardo dire che però i cittadini campresi al momento non ne beneficeranno di questo risparmio perché il piano economico finanziario che prevederà questo risparmio sarà il prossimo sarà quindi per quest'anno non c'è ancora questa possibilità perché non c'è perché probabilmente questo bando che è stato fatto con 12 mesi di prorogo più un ulteriore prorogo 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 in 12 mesi più un ulteriore prorogo in 6 mesi ha fatto sì che il bando precedente è stato prorogato una prima volta per 5 anni e poi ancora per 18 mesi quindi complessivamente il ritardo è stato di 6 anni ma ritardo è tutto regolare si sono espressi anche organi superiori non è che ci esprimiamo noi in consiglio comunale ho detto che non è regolare dico soltanto che magari se si fosse proceduto prima a una gara questo risparmio poteva esserci precedentemente e quindi a questo punto i cittadini campesi ne avrebbero potuto già beneficiare fatto sta che quando alcuni consiglieri non io perché io non sono uso ricorrere agli esposti per mia natura hanno fatto una segnalazione all'ANAC e la risposta dell'ANAC è stata questa che la proroga tecnica è uno strumento del tutto eccezionale affidabile sono le mori di spedamento della gara per la selezione del nuovo contraente ed è finalizzata ad assicurare il passaggio in un regime contrattuale un altro e ritenuto termini usati dall'ANAC impropria questa proroga quindi nessuno ha detto che è illegale l'ANAC era ritenuta impropria quindi probabilmente dire impropria avrebbe detto l'amministrazione avrebbe fatto bene ad agire diversamente quindi probabilmente a indire prima la gara oggi sarebbero già i risparmi ma non pensavamo che dopo dieci anni ci fosse un risparmio nella normalità dei casi dopo dieci anni c'è un aumento io mi preoccupo di dieci anni fa come è stata fatta la gara l'ANAC dieci anni fa sbagliai da opposizione a non scrivere all'ANAC io forse per essere troppo signore per completare un intervento senza essere interrotti da chi presiede questa assemblea se il nuovo regolamento di consiglio il prossimo presidente del consiglio sarà più bravo del sindaco a regolamentare il consiglio comunale io probabilmente riconosco questo mio limite quindi lo dico simbaticamente quindi hai approvato il regolamento del consiglio della fine per non applicarlo così puoi interrompere gli altri consiglieri che è il tuo piacchiere la prossima volta sono pure io scherzando puoi anche rispondere con una battuta una volta tanto un attimo potresti anche rispondere con una battuta error richiamato dal presidente del consiglio comunale sarà un dono sceglilo bene perché sarà difficilissimo farà il suo lavoro imparziale come giusto che sia e quindi andiamo al concreto poi poi posso anche dirle per quale motivo una prima gara ha dei costi superiori a quella successiva perché nella prima gara l'azienda che arriva deve comprare mezzi e attrezzature mastelli una serie di spese che nella prima fase sono previste e nella fase successiva invece no perché ormai l'azienda si è dotata di mezzi tranne quelli che c'era pure un'altra azienda che era la prima volta che doveva comprare i mezzi pure gli altri hanno fatto di meno cioè non è questa la motivazione segretario posso avere la parola cortesemente lo dico a lei lei lo so che non è il presidente del consiglio ma non so a chi rivolge mi taccio mi taccio c'è il sindaco che c'è questo difettaccio e non ne può fare mi taccio mi taccio oppure mi devo rivolgere alla saggezza del vice sindaco una volta tanto se mi dà una mano in questo senso grazie allora grazie quindi insomma questo è quello che che si è verificato poi per quanto riguarda la proposta di delibera per il PEF sono anche alcune cose che apprezziamo su alcuni risparmi però poi quando ci sono dei risparmi a favore dei cittadini sarebbe anche opportuno dire insomma quello che è successo finora è come è avvenuta questa cosa nel senso che sulla delibera consigliare un attimo che la prendo a un certo punto si parla di risparmi che ci sono stati in passato quindi noi spendiamo complessivamente un milione centocinquanta quattro mila quattrocentocinquanta euro dal prossimo esercizio finanziario questo importo potrebbe essere decurtato di oltre centomila euro più o meno e quindi l'importo si potrebbe avvicinare potrebbe superare di poco un milione salvo aumenti previsti eccetera eccetera però a un certo punto qui si parla di quelle che sono state le iniziative di cui abbiamo anche discusso in passato cioè il fatto dell'agevolazione per i primi due anni per attività imprenditoriali ci sarebbe caso in una riunione come questa di oggi portare dei dati cioè in passato queste misure che il consiglio ha adottato che risposta hanno avuto sul territorio cioè quante aziende parlo di numeri non parlo di di narrazione sindaco dopo dopo quando finisco quando finisco replica dice sindaco grazie quindi dicevo se ci sono delle riduzioni queste riduzioni devono operare poi a vantaggio della comunità quindi parliamo per esempio di riduzione per quanto riguarda le nuove attività imprenditoriali 50% primi due anni quante nuove aziende si sono insediate e hanno soffrito di questo vantaggio in termini di Tari domanda le esenzioni per le società che assumono un tempo determinato almeno 5 dipendenti quante aziende si sono insediate e hanno assunto più di 5 dipendenti e hanno avuto un'ulteriore riduzione della Tari anzi in questo caso l'esenzione per i primi due anni quanti cittadini sono venuti abitare nel centro storico per cui hanno soffrito dell'esenzione per i primi tre anni cioè questi dati nel momento in cui si passa al nuovo piano economico finanziario sarebbe opportuno che venissero portati all'attenzione dei consiglieri perché tutti noi ci rendiamo conto di in che direzione stiamo andando per correggere anche eventualmente il tiro però noi adesso nella descrizione di questo documento e di questa delibera proposte di delibera questi dati non sono stati evidenziati quindi se c'è una risposta in questo senso però ripeto non una narrazione di quanto siete bravi e come siete bravi a fare sui dati numeri grazie consigliere Di Stefano senta il consigliere Giampieri che fa parte del suo gruppo consigliare che ha fatto una richiesta in tal senso ha avuto una risposta forse vi parlate poco tra di voi altrimenti avrebbe conoscenza dei numeri perché il consigliere Giampieri questa sua richiesta l'ha fatta proprio espressamente agli uffici sì però scrivo scusa sindaco noi quando parliamo in consiglio comunale lo facciamo anche attraverso una diffusione video così i cittadini possono sapere quello che ci diciamo io ripeto al di là delle risposte glielo diciamo noi al prossimo consiglio comunale non potreste dire in questa occasione che si discute il piano economico finanziario quali sono i dati per quanto riguarda questi vantaggi per i cittadini camponesi il prossimo OPEF quindi tra un anno sono responsabile tra un anno ma no ma anche il prossimo consiglio se vuole insomma glielo faccio preparare altrimenti lo comunicate voi altrimenti ne facciamo in consiglio comunale se volete non ci sono problemi neanche a farlo in consiglio comunale sono dati pubblici non sono dati riservati però non conosciuti dalla popolazione non sono richiesti al OPEF però se voi lo volete ve le facciamo avere come abbiamo sempre fatto con grande trasparenza grande tranquillità e grande serenità come abbiamo fatto già in passato annuncio quella che è la nostra posizione la nostra posizione per quanto riguarda la delibera sul piano economico finanziario legato all'Atari è una posizione di astensione per il fatto stesso in relazione a quello che abbiamo detto prima che con un ambando anticipato questi risparmi potranno essere già in questo piano e invece saranno dal prossimo dal prossimo se ci saremo ancora voteremo a favore va bene grazie passiamo al voto favorevoli 9 voti favorevoli astenuti 3 immediata esecutività dell'atto favorevoli astenuti anche l'immediata esecutività allo stesso modo io a questo punto posso un attimo sindaco perché prima tra il vostro pro riloquo mi sono dimenticata durante il mio intervento di dire che per quanto riguarda il discorso della commissione sulle pari opportunità l'aveva premesso il sindaco il candidato sindaco ex candidato sindaco di Stefano futuro non si sa non si sa ancora ok mi sei detto tutto il sindaco però siccome sei tutto tu ma non lo sappiamo neanche noi no io mi permetto di dire volevo semplicemente puntualizzare scusatemi che l'unica proposta che io avevo fatto appunto era quella del senso unico l'unica donna in opposizione non siamo stati capaci ad attuarlo come tutte le cose si attende la fine del mandato per poter fare tutte le cose quindi ovviamente verso di me non c'è stato questo incontro ma io so che ci sono tutti gli atti necessari su questo capisce? io so che ci sono tutti gli atti su questo quello che viene promosso quello che viene detto nei miei confronti in questi cinque anni è sempre stato un po' presso di mira attaccato spesso anche dalle mie colleghe quindi questo incontro mi auguro che ci sia per chi verrà nel futuro se ci sarò io o meno questo ancora non lo so però mi auguro che proprio questa commissione per le pari opportunità ci dia anche una libertà mentale di 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 svolgere un lavoro anche se in in posizioni opposte ma comunque un po' più unito semplicemente tutto qua il fatto di aver chiesto il mio che dire il mio consiglio era semplicemente un modo per non farmi sentire esclusa più inclusivo semplicemente quello ma non che io non abbia riconosciuto il fatto di di quello che è stato fatto né ho mai messo becco su ciò che la consigliera ha fatto nei suoi anni perché io comunque sono arrivata in ritardo quindi tutto ciò che è stato fatto anche precedentemente non non ho avuto la possibilità e comunque non ho non sono stata presente neanche a Campli per poterlo sapere tutto quello che è stato fatto negli anni e precedentemente quindi io purtroppo non leggo nel passato se non è scritto sui libri di storia posso solo leggerlo man mano che lo vivo quindi semplicemente questo e per quanto riguarda la commissione delle pari opportunità il fatto dei gettoni di presenza come abbiamo richiesto l'altra volta vi chiedo non so questo è l'ultimo consiglio non so quanto se no potremmo farne altri mi auspico insomma che ci sia il totale di quello che per noi verrà poi donato alla scuola come sempre anche noi faremo le nostre donazioni come sempre i gettoni di presenza che noi ci abbiamo tanto tenuto quando faremo Cersi che non faremo altri consigli comunali assolutamente sì eh sì vedetelo insomma va bene se posso aggiungere al riguardo ce va bene la consigliata di Giovanni a ricordarlo noi abbiamo appunto devoluto i nostri gettoni di presenza all'istituto scolastico all'istituto comprensivo di Campli per fare iniziative progetti eccetera quindi siccome sono passati un po' di anni capisco che questo lavoro si fa la fine però insomma sarebbe pure opportuno appena finito faremo le dovute posso finire vice sindaco appena finito a occuparsi di questa cosa ah vabbè vabbè allora ce la deroga ce la deroga allora dicevo quindi abbiamo devoluto il nostro gettoni di presenza di questi anni all'istituto comprensivo quindi vorremmo conoscere anche quali sono gli importi in maniera da comunicare alla scuola quali sono quali sono le somme che verranno devolute al comune di Campli per conto dei consiglieri di minoranze grazie 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 a tutti allora ci vediamo al prossimo consiglio comunale se ne faremo un altro per atti ancora non abbiamo ancora non abbiamo contezza di questo altrimenti vi convocherò comunque sicuramente in sala consigliare per un saluto comunque ufficiale perché è giusto che al di là delle posizioni e comunque sono stati cinque anni che abbiamo trascorso insieme in consiglio comunale quindi sicuramente insomma ci sarà l'occasione per rivederci per salutarci sperando appunto di vedere anche le mie consiglieri qui presenti con noi perché sapete che sono in dolce attesa e quindi abbiamo insomma come dire in questo momento delle situazioni che non possiamo prevedere colgo l'occasione anche per fare gli auguri a Davide che ha annunciato da poco insomma l'arrivo di un bimbo di una bimba e quindi colgo l'occasione per fare a nome di tutti i migliori auguri anche a Davide grazie ovviamente mi unisco al sindaco per quanto riguardi gli auguri a Melissa di Egidio e a Davide Cordoni anche a Laura e a Laura e a Laura perdonami e a Laura e a Laura quindi quindi vuol dire vuol dire che questo che questo consiglio comunale vuol dire che questo consiglio comunale sia adoperato veramente per dare una risposta ai problemi di spopolamento e di natalità che sono problemi seri sicuramente più di questo il consiglio non poteva fare insomma non solo il consiglio anche i dipendenti devo dire che si sono impegnati molti quindi anche su questo anche su questo i cinque anni sono stati profigui e quindi ecco il sindaco diceva che non sappiamo se ci sarà un altro consiglio comunale nel caso in cui dovesse essere ci sarà in quel momento in cui faremo i saluti alla comunità camplese il sindaco ha assicurato che ci sarà un momento non so se sarà registrato lo faremo registrato in maniera che comunque questo consiglio si possa concedere poi indipendentemente da chi sarà seduto su questi tavoli nel prossimo consiglio assolutamente grazie buona serata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti